Il 16 e 17 ottobre scorsi si è tenuta la prima assemblea di gestione calabriana della delegazione San Giovanni Calabria. L'incontro si è svolto presso l'abbazia di Maguzzano e vi hanno partecipato i componenti dei consigli di direzione di tutte le case italiane dell'Opera Don Calabria. La ragione e lo spirito possano andare insieme, come diceva Giovanni Paolo II che la ragione e lo spirito sono le due aree per l'uomo volare e noi vogliamo volare nella gestione anche delle nostre attività. Durante l'incontro, condotto dal delegato Don Ivo Pasa e dall'economo generale Fratel Gedo Varnazzari, è stato affrontato il tema della pianificazione nelle organizzazioni nate da un carisma. Di particolare interesse è stato l'intervento di Alberto Frassinetti, esponente della Scuola di Economia Civile, che ha dato numerosi suggerimenti pratici sui modi in cui è possibile riorganizzare le attività senza perdere di vista il carisma istituzionale. Nella seconda parte dell'Assemblea è stato presentato il nuovo piano di gestione della Delegazione Europea, sviluppato seguendo le indicazioni dell'undicesimo capitolo generale della Congregazione. In base ad esso, le case calabriane inizieranno a lavorare in modo trasversale relativamente a tre ambiti di attività, educativo, sanitario e istituzionale. Tale lavoro, già iniziato, verrà portato avanti promuovendo sempre di più una cultura della formazione e della partecipazione. In conclusione, i presenti hanno deciso di fissare una nuova Assemblea che si terrà nel giugno 2016, per confrontarsi e per fare il punto della situazione sulla riorganizzazione appena iniziata. Grazie. 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 Grazie.